buonasera buonasera ben ritrovati nel mio canale in questo mio nuovo video post juve parma 2 a 2 come avevo detto la volta scorsa il pareggio 4 a 4 era quasi da concepire come se fosse una piccola vittoria e questo insomma proprio diametralmente opposto questo pareggio 2 a 2 col parma può essere eventualmente considerato come una piccola sconfitta perché con queste partite in cui con questi avversari bisogna assolutamente vincere se vuoi ambire a dei progetti o perlomeno da un livello alto bisogna assolutamente vincere abbiamo già pareggiato con l'empoli abbiamo pareggiato con la roma abbiamo pareggiato col napoli abbiamo pareggiato con l'inter abbiamo pareggiato anche con il parma non è concepibile tutto questo perché effettivamente qua bisogna comunque trovare qualche soluzione perché purtroppo sono punti persi questi sono punti persi e poi soprattutto anche in casa non a parma eravamo in casa quindi alla fine veramente bisogna trovare qualche soluzione perché bisogna essere più cinici bisogna comunque cercare di costruire bene costruire meglio tirare un po di più perché tiriamo veramente poco soprattutto nello specchio della porta e soprattutto ritrovare quella solidità dietro ok sappiamo che manca bremer sappiamo che con bremer avevamo appunto un'altra difesa subivamo poco gol forse solamente uno e in occasione di un rigore però non si possono concedere uno barra due gol a partita nelle ultime solo due partite abbiamo fatto quattro gol all'inter abbiamo dato due gol al parma non è concepibile qualcosa del genere concediamo veramente tanto 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 la solidità difensiva che avevamo un po di tempo fa sta benendo meno poi se poi ci aggiungiamo il fatto che c'è un giocatore che è un ex giocatore quando giochiamo con questo troppo mi vuole dirlo ancora e danilo giochiamo con uno in meno in un punto nevralgico della del campo e della difesa purtroppo c'è molta si deve mettere in testa che la coppia centrale difensiva e gatti da lui danilo purtroppo magari l'avrà messo dentro per evitare di dargli l'ammazzata psicologica dopo i fatti di stoccarda e i fatti contro l'inter però purtroppo adesso bisogna aggiungere anche le mancanze e le diciamo così le sviste da parte di danilo in questa partita perché nel secondo gol c'è molto del suo perché si lascia scappare l'uomo non recupera e poi alla fine insomma si posiziona in aria non seguendo nessuno e alla fine insomma ci buca e anzi poteva andare anche peggio perché Diego Gori in un paio di occasioni è stato anche abbastanza risolutivo soprattutto in un episodio in cui si è trovato l'uno contro l'uno purtroppo c'è non lo so c'è ogni qualvolta la nostra squadra arriva in avanti si trova veramente intanto in difficoltà e non riesce a trovare mai lo spunto tant'è che i gol arrivano da mari difensori oppure da centrocampisti che si inseriscono come è capitato appunto wea e anche mckenny oggi però noi i nostri attaccanti fanno molta fatica blaovic su tutti indice vabbè ha avuto una serata di grazia con a san siro però insomma veniva da un periodo sicuramente non positivo invece per quanto ci riguardi in fase difensiva ogni qualvolta la squadra avversaria arriva nella nostra zona di rigore bene o male al tiro ci arriva sempre e spesso e volentieri in qualche modo ci rende anche le cose anche abbastanza difficili e arriviamo anche a subire gol molto amareggiato sinceramente anche abbastanza deluso ne parlerò in maniera più approfondita domani nel mio solito il giorno dopo intanto io vi saluto vi ringrazio vi invito qualora l'avete già fatto ad iscrivervi al canale assolutamente importante attivare la campanellina per essere avvisati nel momento in cui vengono postati i nuovi video momento in cui vengono fatte le nuove live like se avrete apprezzato il video e fino alla fine sempre solo e nonostante tu forza juve